Grazie alle tabelle fornite dall'Agenzia del Lavoro si possono analizzare i dati che riguardano l'occupazione in Alto Garda e Ledro. La situazione non è delle migliori, ma neanche così negativa. Per quanto riguarda le assunzioni totali, il 2016 registra 334 unità in meno rispetto all'anno precedente, pari a un meno 3,1%. Una situazione opposta al dato provinciale che fa registrare un aumento dell'1,9% corrispondente a 2.000 assunti. Il saldo nel nostro territorio tra assunti e cessazioni di contratto vede 800 unità in più, superiore al dato del 2015 dove il saldo positivo ammontava 569 assunzioni. Se si analizzano i differenti settori economici, si nota che ad aver assunto meno nel 2016 sono i pubblici esercizi, con 215 assunzioni in meno rispetto all'anno precedente. Segno negativo anche nel settore manifatturiero, con 64 unità in meno, così come gli altri servizi del terziario, con un calo di 303 unità. Ad assumere sono invece i servizi alle imprese, con 97 contratti, seguiti dal commercio, con un più 80 unità e l'agricoltura con un aumento di 69 assunti. Resta praticamente stabile il settore dell'edilizia. Il calo ha colpito più le donne con 290 assunte in meno rispetto ai maschi con un calo di 54 unità. Ma la disparità di genere è ancora più evidente a livello provinciale, con 2.194 unità di uomini assunti in più contro 186 donne in meno. La situazione è invece pressoché simile sia per lavoratori stranieri che italiani, ma in termini percentuali colpisce più gli stranieri con un meno 6% rispetto ad un negativo 2,1% per gli italiani. I giovani fino ai 29 anni segnano un timido più 1,5%, pari a 56 assunzioni, probabilmente grazie ai contratti di apprendistato. Le fasce di età superiori segnano saldi negativi. Per quanto riguarda la tipologia di contratti, calano drasticamente quelli a tempo indeterminato, dovuti soprattutto alle minori agevolazioni, con 580 contratti in meno, seguiti da un calo di 77 per il lavoro a chiamata. I contratti a tempo determinato più 104 e l'apprendistato con un aumento di 75 unità. Una situazione difficile e complessa che non può essere eletta in maniera del tutto negativa o drammatica. Il quadro generale mostra un calo del 5,5% di cessazioni di contratto, pari a 573 persone che continuano a lavorare. Il saldo occupazionale è positivo, pari a 798 unità rispetto a 569 del 2015, con un guadagno di 229 lavoratori in più.